La Pistoese cercava di cincischiare di meno. Non si importa, non hanno dimostrato un'ottima mira. La Fiorentina... ...vare l'1-0 e di riesce. Scontri abbastanza... ...territoriale dell'Inter, la cui manovra si è arrestata quasi sempre ai limiti. Veramente molto bella la parata, guardate, introdise, raccoperto. Parata salvataggio. ...vanno nuovamente in vantaggio. E ancora... ...conclusione di massa incaduta e debole, ma insidiosa. Comunque malgioglione per ottenere un pareggio che non sarebbe stato immeritato. A Brescia, anche dopo parlare dell'ultimo avventù... ...si scoraggiava gradualmente dopo alcune esecuzioni poco fortunali. In campo, opponendosi così alla conclusione di Prandelli. Concentrato sostituto, con meno del dovuto non solo agli uomini di Trapattoni, ma in... ...quarantaduesimo, ma Green impegna malgioglio direttamente su calcio d'angolo. Dell'Inter... ...un Pisa, qui al tiro con Dolcetti, tenace, aggressivo, mai rassegnato. Inizio... Nella ripresa, gli ospiti attaccano senza sosta. Trapattoni sostituisce Matoli... Eneas non è abbastanza rapido a sfruttare l'occasione. Gioglio si fa applaudire per le deviazioni in angolo sui tiri di Dolcetti e Piovanelli. Spegnava malgioglio. Nella ripresa... Palla a me che io la passo a te un minuetto, quasi Rococo, e del quale questa è stata... Ben disposta da Tidia. Mancano Virdis e... Nel primo tempo, perché Zola è un buon regista e Klinsmati sono comunque pericolosi. Marvoglio, il portiere interista quando De Napoli prova dalla distanza. Se... ...alla fine ha vinto la paura. Infatti, le due squadre che... ...cerca di concludere per sé. Una bella parata di malgioio, portiere Bresciano... Nicoletti a tentare di sorprenderlo. Malgioglio, momenti di gloria. L'Inter coglie la difesa violenta.